Il principale, praticamente ci sono tre cavalli molto vicini, si tratta di Norton Valm, Nord-Est e Olga Pant. Sotto la pari invece Manuroc, 1,98, quando mancano 150 metri allo stacco. Partiti con la velocità iniziale di Manuroc, che viene però scavalcato in breve da Olga Pant, che conduce così in 100 metri. Olga Pant scivolata al comando, superando Manuroc, 14,1 il lancio, Manuroc però va subito a chiedere strada. Con Norton Valm in posizione di rincalzo, tiene strada Manuroc come era prevedibile, dopo 400 metri di gara è leader. 400 in 29,6, Manuroc conduce su Olga Pant, terza posizione per Norton Valm, mentre all'esterno cerca di risalire Michelle Trio. I 600, se ne vanno per Manuroc in 44,7, Olga Pant si mantiene un paio di lunghezze, non bellissimo l'andatura Manuroc. All'esterno anche Nord-Est, che è in seconda pariglia e segue direttamente Michelle Trio. Intanto Manuroc completa gli 800 in 1,6, 15,9 questo parziale, Olga Pant si riavicina. Mentre all'esterno è sempre Michelle Trio con in schiena Nord-Est, in coda c'è Liberto. Intanto il chilometro in 1,15,7 allarga ora Manuroc che viene infilato all'interno da Olga Pant. Manuroc infilato, cerca di riprendersi, scende nuovamente alla corda. 400 alla conclusione con Manuroc che è tornato alla corda. Si mantiene in vantaggio su Michelle Trio che ha Olga Pant all'interno, completamente zapiegata, ingresso in retta d'arrivo. Michelle Trio prova ancora su Manuroc che accelera, Manuroc allarga ancora verso il centro pista. Olga Pant all'interno insieme a Michelle Trio. Ultime battute con Olga Pant che guadagna sui problemi di meccanica di Manuroc. Sul palo passa per primo Manuroc, non bellissimo di meccanica, anzi, Olga Pant e Michelle Trio giungono nell'ordine. Da aspettare naturalmente il verdetto della giuria perché Manuroc è davvero molto molto brutto di andatura. Non apre di galoppo probabilmente ma potrebbe essere ambio oppure aspettiamo comunque il verdetto della giuria. Grazie a tutti. Grazie a tutti.